Era stato già sanzionato nel pomeriggio a Montebelluna perché nei pressi della stazione ferroviaria continuava ad importunare i passanti. Poche ore dopo il 31enne di origine ghanesi, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è spostato a Trevignano in piazza D'Antalighieri continuando l'atteggiamento molesto nei confronti dei cittadini, non solo ma recando pericolo anche alla circolazione stradale. Sono così nuovamente intervenuti i carabinieri del radiomobile di Montebelluna che hanno tentato di calmare l'uomo. I militari dell'arma sono stati pesantemente minacciati, lo straniero ha inoltre opposto resistenza tale da rendere necessaria la sua immobilizzazione forzata. Arrestato e condotto in caserma. Nella notte a Conegliano, in via dei Mille, località Compidui, svariate pattuglie dei carabinieri della locale compagnia, sono intervenute presso la locale Sagra Paisana. Numerose le chiamate al 112 da parte dei cittadini che segnalavano la presenza di un individuo molesto, semisvestito. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista dei militari dell'arma, ha iniziato a inveire e a minacciarli per poi passare alle vie di fatto, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Uno dei carabinieri è rimasto ferito ed ha riportato delle lesioni. Lo straniero, un 25enne di origine nigeriana e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e trattenuto in caserma dai militari dell'arma. Grazie.